Buonasera, ben ritrovati a Primus Interpares, il consueto appuntamento settimanale del mercoledì, l'ultimo poi andremo in ferie anche noi, ci ritroveremo ovviamente dopo il mese di agosto, nei primi di settembre, per riparlare appunto con il sindaco di Padova che è ospite questa sera, di Padova Massimo Vittonci. Buonasera Massimo, poi non è bello che chiamo Massimo, però bisognerebbe chiamare il signor sindaco per professionalità. Non mi formalizzo. Per professionalità. Abbiamo una puntata importante, questa sera parleremo delle partecipate, parleremo praticamente, siamo andati tra la gente, abbiamo fatto delle domande, sapendo che abbiamo il sindaco e le abbiamo detto, fate delle domande al sindaco di Padova, cosa funziona, cosa non funziona, parleremo delle caserme dismesse, parleremo di sgarbi e parleremo di un servizio davvero straordinario e particolare. Siamo saliti, i nostri giornalisti, i nostri tecnici, sono saliti in ambulanza e guardate poi che viaggio, che odissea di viaggio fanno con tutti i dossi che ci sono a Padova. Ovviamente parleremo di tutto questo con il sindaco Massimo Vittonci, davvero un servizio molto interessante. Cominciamo allora, tutto bene intanto la solita domanda d'apertura? Tutto bene. Tutto a posto, il lavoro continua, le arrabbiature le continuano? Normale amministrazione. Normale amministrazione, uno dice se hai avuto la bicicletta devi… No, ma è normale che in una città importante come Padova, con l'università, con l'Ulss, con lo Iov, con l'azienda, con ovviamente tante tematiche, magari anche ferme da qualche anno, che ci sia qualche critica, che ci sia… però insomma noi stiamo lavorando, i risultati ci danno anche ragione. È logico che nell'attività amministrativa c'è una parte di programmazione, una parte in cui si vedono poi nascere le opere pubbliche. Ci sono tante gare in corso e quindi insomma chiedo anche sempre un po' di pazienza anche quando effettuiamo i lavori. Dopo parleremo magari anche delle opere pubbliche. Dovremmo fare anche un intervento per esempio importante sia sulla viabilità di Ponte Vigo d'Arzere, sul Bassanello. Abbiamo progettato, stiamo progettando anche una rotatoria nuova vicino a quella della Stanga per eliminare tutti i semafori che ci sono lungo via Venezia, quindi anche là. Insomma sono ovviamente opere che potranno creare qualche disagio. Abbiamo via Morgagni, anche lì, che abbiamo approvato il progetto definitivo, andiamo verso l'esecutivo e la gara, quindi saranno potate le alberature, sarà sistemata la viabilità, una parte verrà pedonalizzata, verrà fatta una rotatoria proprio in prossimità dell'ospedale che era da anni che se ne parlava, dove c'è attualmente il semaforo. Quindi sono tutte opere che quando saranno in cantiere creeranno qualche disguido alla popolazione, come l'asfaltatura. Abbiamo 4 milioni e mezzo di asfaltature che partiranno a settembre. È logico che quando si asfalta, dopo qualche disagio, marciapiedi, potature. Poi ne parlerò perché ci sono molti di questi argomenti che stai dicendo che i cittadini padovani te lo chiedono proprio direttamente. Una curiosità, è tutto a posto con Forza Italia, visto che nell'ultima puntata abbiamo avuto una puntata molto calda, inerente all'argomento Grigoletto e Forza Italia. Se sono sistemate le cose lì, Massimo, oppure… Io un po' a queste cose, queste beghe, così non do molto peso. Io lavoro con la Giunta e con i consiglieri. Il programma è un programma chiaro. Penso che quando fai un'opera pubblica è logico che qualcuno può andare bene e qualcuno no, ma in realtà la cosa peggiore è l'inedia, quando uno non fa assolutamente nulla. Qualcosa l'abbiamo anche modificato. Se pensiamo alla questione delle chiusure del centro, abbiamo valutato dopo una settimana che con le biciclette c'è compatibilità con i pedoni. E come fa un'amministrazione seria che fa delle proposte e poi valuta, perché la sperimentazione cosa serve per sperimentare, no? Quindi abbiamo fatto una settimana senza, una settimana con, che adesso la sperimentazione continua fino a settembre, ovviamente con le biciclette, quindi se non ci sono problemi di conflitti con i pedoni. Quindi è un po' normale come si fa una rotatoria, si mette in New Jersey, si spostano per vedere se funziona bene. Anche la rotatoria della Stanga all'inizio aveva qualche tema che poi è stato risolto guardando, osservando, vedendo, spostando. Per esempio ci sono viabilità di Padova che non venivano mai utilizzate e con le deviazioni obbligatorie i padovani hanno scoperto. Ci pensiamo a Via Friburgo che viene utilizzata, veniva utilizzata pochissimo, adesso la gente l'ha scoperta e come la utilizza molto, quindi in realtà bisogna anche nelle nuove viabilità bisogna fare delle prove, bisogna indirizzare anche il traffico di chi magari in maniera anche un po' pigra vuole passare attraverso sempre stesse… Ovviamente la polemica, io ricordo Massimo Bitonci, credo una ventina di anni fa più o meno, forse di più, quando è stato ripristinato i vari sensi nel Bassanello. È successo che praticamente da un senso doppio ha fatto un senso unico che si girava attorno e il primo giorno, la mattina successiva, c'era il caos, c'era ore di code, davvero una cosa incredibile. Ovviamente stampa, tutti hanno criticato, poi con il tempo si è visto che era… Ma un sistema del genere può… La bassanello può funzionare solamente con un sistema rotatorio, là c'è un unico impedimento che tutti i padovani conoscono che è la linea del tram, che occupa una sezione importante della strada, il tram ha sempre la priorità e quindi è una causa di arresto del traffico. Quindi noi stiamo adesso studiando una soluzione per eliminare i semafori, c'è sempre questo problema del tram, quindi dobbiamo cercare una soluzione anche un po' alternativa perché ovviamente il tram ha questa priorità che deve essere lasciata. Ma ci avevo fatto un paragone, perché quando un sindaco o chi per esso fa un lavoro, fa qualcosa, il giorno dopo, prima ancora di attendere il risultato effettivo, reale, che ci vuole del tempo ovviamente per poterlo verificare… È successo così anche per altre opere, che hanno detto non funziona e così dopo funzionavano. Adesso per esempio su via Tomaseo, dopo questa fase di sperimentazione abbiamo visto che anche là in effetti le macchine possono passare, la gente ha imparato a fare il giro e quindi è servito insomma far imparare e utilizzare anche il nuovo cavalcavia, quindi adesso la gente utilizza quello e utilizza anche via Tomaseo, quindi anche il traffico là si è anche sistemato, ma insomma ovviamente Padova, la viabilità è un po' una scacchiera, no? E quindi bisogna, muovendo da una parte, bisogna stare attenti dall'altra. Ecco, l'unica cosa, una domanda, visto che abbiamo parlato di questo, delle scacchiera, come mai, faccio un esempio, sia per quanto riguarda il fagiolo, sia per quanto riguarda altri punti importanti della città, quando piove succede il pandemonio, c'è la coda dappertutto. Perché si tende ovviamente a utilizzare solo l'automobile e lasciare stare magari gli altri mezzi, che sono le biciclette, che sono i motorini, si tende a accompagnare tutti quanti i bambini a scuola con la macchina e quindi quando piove solitamente c'è un problema di traffico, che ovviamente si, questo è abbastanza normale, si vede un po' in tutte le città. La pioggia è tremenda insomma. Adesso su Apotevigodaz, il prossimo progetto che stiamo facendo, Apotevigodaz della sud, vicino alla rotatoria, chiamiamo Exaimp, lì stiamo andando avanti in maniera abbastanza veloce, abbiamo sentito già il curatore di quel falimento, di quell'area che c'è più a est, là stiamo già studiando la nuova viabilità, quindi anche là verrà creato un sistema rotatorio utilizzando la nuova, la canna del ponte che per adesso non è stata utilizzata e vedrete che anche là, io penso che sbloccando la viabilità a sud di Pontevigodaz di Pontevigodaz, sarà molto più facile anche l'accesso a nord, quindi adesso stiamo valutando anche a nord quel progetto, però prima facciamo quello a sud, vediamo come funziona e se effettivamente sblocca. Funziona bene, verrà messo anche in atto dall'altra parte della città, questo qua è già una buona iniziativa. Allora andiamo con ordine Massimo Bitolci e andiamo a parlare di partecipate, da quando sei arrivato c'è molto movimento per quanto riguarda appunto le partecipate, ci sono molte diffusione, andiamo a vedere il servizio di Tulio Trivellato e poi lo commetteremo in studio. Le società partecipate sono spesso una fonte di spese inutile, sono causa di disastri evidenti, lo diceva non troppo tempo fa il procuratore della Corte dei Conti del Veneto Carmine Scarano, sottolineando che nelle partecipate la spesa pubblica è incontrollabile. Proprio per fronteggiare questa voragine nel nome della spending review, il governo Renzi aveva messo in campo una legge ad hoc, chiamando i comuni a predisporre un piano di razionalizzazione delle società partecipate. A Padova l'amministrazione Bitolci si era mossa con un certo anticipo in questo senso, iniziando già a recuperare le perdite delle società partecipate, sostituendo chi aveva creato buchi, ma anche riducendo il numero dei consiglieri, un po' in tutti i CDA, tagliando i gettoni di presenza, una riduzione media del 30% in tutti i ruoli. Ma quali sono le società che vedono la partecipazione di Palazzo Moroni? Le principali sono APS Holding S.p.a. per il trasporto pubblico, farmacie comunali di Padova S.p.a., finanziari APS S.p.a., aeroporto civile di Padova, banca popolare etica, il consorzio ZIP Interporto Padova, fiera immobiliare di Padova S.p.a., il mercato agroalimentare di Padova, il parco scientifico e tecnologico Galileo e ERA S.p.a., una multiutility che gestisce i servizi di igiene urbana, acqua e gas. Nell'ottica di una spending review e dunque la razionalizzazione della spesa, grandi manovre sono in corso anche a Padova. Tra le novità di questi giorni, la vendita di 8 milioni e mezzo di azioni ERA, che ha fruttato 20 milioni di euro, denaro che il sindaco assicura sarà interamente speso in opere pubbliche per la città. Telerete, partecipata che si occupa di informatica, cultura e turismo, cederà a breve il 51% delle quote, mentre sul tema della fusione delle partecipate di Padova, già da settembre-ottobre APS Finanziaria, APS Holding e APS Opere e Servizi diventerà un'unica società, con un unico CDA e un unico bilancio. Altra novità imminente, la fusione dell'Interporto di Padova con quello di Rovigo, iniziativa partita dall'amministrazione patavina che darà vita al più grande interporto del nord-est. Da ultimo, ma non meno importante, il futuro della fiera di Padova, che dal primo agosto tornerà a parlare padovano grazie all'affitto del ramo d'azienda al gruppo padovano G-Planet per un progetto di rilancio che punta a riportare nei padiglioni fieristici della città del Santo molte di quelle rassegne e manifestazioni andate perse nel corso degli anni. Carmine che non mi piace, però quanta carne al fuoco? No, devo dire che in soli due anni, e penso che chi sta seguendo questa trasmissione, con questa sintesi però molto puntuale che è stata fatta, devo dire, si rende conto di che lavoro è stato fatto. Cioè, in tutte le nomine che io ho fatto ho chiesto la riduzione dei compensi, la media è circa un 30%, quindi c'è stato, diciamo così, tra virgolette un sacrificio anche di chi è stato nominato all'interno dei consigli di amministrazione. Poi abbiamo preteso le aggregazioni e le fusioni. Allora, a metà a livello nazionale si parla, si parla, si parla e dopo di aggregazioni non se ne fa neanche una. si tiene anche l'ultima società, come la Svimezza è quella che fa lo studio per quanto riguarda le problematiche del sud. Quindi c'è di tutto che finanzia questo governo, noi invece abbiamo fatto una scelta molto importante, cioè intanto la fusione APS con Busitalia, è nata la più grande società di trasporto del Veneto con mille dipendenti e che sta gestendo il servizio di trasporto pubblico a Padova e Rovigo. Poi la fusione che è già cominciata tra le tre società di servizi padovane, quindi la PS finanziaria, la Opere Servizi, quella che cura ovviamente i parcheggi e il forno crematorio e il cimitero e la Holding che è proprietaria della partecipazione con Busitalia a Veneto, sarà un'unica società con un unico consiglio di amministrazione a tre, quindi c'è la riduzione degli altri amministratori che erano sulle altre società. Come è stato ben detto, Telerete è stata messa in vendito il 51% della società, questo perché Telerete fa dei servizi che non sono servizi direttamente collegabili con il cittadino, cioè il call center non ha niente a che vedere, sono più attività che possono andare, oppure la fibra ottica, le telecamere o certi tipi di servizi di informatica e di rete, devono andare verso il privato, cioè non ha senso che la tenga un'amministrazione pubblica e quello verrà venduto. Dopo c'è questa grande aggregazione su cui si sta lavorando, mai fatta in passato e qui ne rivendichiamo sia io che Interporto, insomma anche una certa paternità, la fusione ZIP Interporto, se ne è sempre parlato, nessuno mai l'ha fatta, adesso si sta lavorando veramente sulla fusione, quindi la ZIP, la zona di Padova sarà un'unica società con Interporto Padova. e nel frattempo abbiamo chiuso questo accordo tra i comuni di Padova e Rovigo per spingere verso… Anche se c'è Verona che rompe un po'… Sì, va bene, però dopo la fine i conti si fanno con i sindaci e i sindaci di Padova e Rovigo lavorano in collaborazione tutti i giorni su tutti i temi e chi ci ascolta sa benissimo del rapporto storico, geografico, amministrativo, politico, finanziario con Rovigo che a Padova. Se pensiamo alla fondazione, cioè la fondazione che deriva dalla banca, la cassa di spagno di Padova e Rovigo, la fondazione è la fondazione di Padova e Rovigo e quindi col sindaco anche in moltissimi temi ci sentiamo e sull'interporto, sarà l'interporto che lui schierà l'interporto di Padova, si chiamerà l'interporto di Padova e Rovigo, quindi io penso che sia anche un modo di collaborare tra sindaci molto importante, quindi fusione con Zip e fusione con Interporto. Sulla fiera, quattiquatti, in silenzio, quando tutti criticavano, quando la fiera nel giro di pochi anni è passata da 30 milioni fatturato a 6 milioni, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato per realizzare una nuova società, c'è un privato che si è fatto avanti, che voleva far parte della nostra proposta di questa NUCO che volevamo realizzare, che avevamo già presentato il progetto per fare l'affitto di azienda, stesso identico progetto che è stato fatto adesso. Sono andati in Francia con il nostro benestare, hanno concordato l'affitto di ramo d'azienda per 10 anni e finalmente la gestione è cambiata, ma non chiacchere, non chiacchere, cose reali, cioè finalmente i padovani si sono ripresi in mano alla fila di Padova con un progetto industriale molto importante, la settimana scorsa è stato presentato alla Camera di Commercio e a tutte le associazioni di categoria, io ho partecipato ovviamente come sindaco dicendo la mia, erano presenti anche i soci e l'amministratore di Gplanet, il cui presidente è l'avvocato Livi che fu quello che portò la fiera ai 30 milioni di fatturato in passato e poi fu mandato via appunto dai francesi con la nuova gestione voluta dall'amministrazione comunale del tempo. Devo dire che invece la situazione adesso mi sembra molto fluida e la situazione di categoria proprio l'altro giorno ho sentito un coro unanime di presidenti che hanno detto benissimo facciamo i nuovi progetti, la zona della fila deve essere utilizzata anche per la New Economy, anche per la Smart City, anche per l'università, si sta lavorando anche per spostare anche il Parco Galileo, stanno facendo tante cose per cercare di utilizzare spazi che abbiamo e razionalizzare le spese, le perdite e cercare di portare tutte quante le società inutile. Anche se ci vorrà del tempo perché da 30 milioni a 6 milioni riportarle ai 30 milioni visto l'andamento... Però da quello che ho capito questo affitto di ramo d'azienda, questa società padovana lo fa con la propria società, quindi non con una nuova società che quindi potrebbe anche andare male e quindi lasciata poi in un angolo, lo fa e quindi rischiano improprio e con una società che ci hanno detto l'altro giorno ha già 20 milioni di fatturato ed è già esperta nell'allestimento delle fiere, quindi andiamo da chi questo tipo di attività la fa tutti i giorni. E il centro congressi all'interno? Il centro congressi, i lavori stanno andando avanti, abbiamo sollecitato sia io prima e poi il presidente Zilio il fatto che si faccia la gara, tra due anni sarà pronto, io penso che bisogna correre assolutamente per fare la gestione, l'ente fieristico nuovo si è reso disponibile mettendo a disposizione un padiglione per cominciare l'attività congressuale ora e quindi in prospettiva poi della migrazione nel nuovo centro congressi, si stanno valutando varie opzioni, io penso che una volta fatta la gara individuato poi il gestore, ne parlavo proprio il presidente della Camera di Commercio, essendo il centro congressi uno di quelle opere pubbliche che saranno interamente pagate e quindi che non hanno uno strascico dal punto di vista finanziario potremmo anche partire con un affitto diciamo abbastanza modesto per poi aumentarlo nel corso degli anni in modo da invogliare chi vuole gestire a partire con la gestione di un centro congressi che non è facile, però riusciremo a portare i grandi congressi a Padova. Nel riassumere il tutto per quanto riguarda le partecipate che sono la croce e la delizia di un'amministrazione, economicamente com'è la situazione? Il Comune ne trae beneficio, deve metterci soldi, facciamo un bilancio totale di queste partecipate così? Allora il gruppo APS lo scorso anno e negli anni precedenti chiudeva sempre con una perdita molto pesante, molto pesante e il prossimo anno, quest'anno c'è comunque una perdita meno pesante di quella dell'anno scorso dovuta a una sistemazione di poste in bilancio che erano rimaste là per molti anni e ovviamente i nuovi amministratori non hanno voluto ripulire il bilancio da alcune poste inesistenti e alcune insussistenze, pensare che c'erano 70 monitor mai messi nei tram e che erano a bilancio per 350 mila Euro e quindi sono stati completamente svalutati. C'erano pezzi di ricambio di autobus non più in uso, quindi più utilizzati, a magazzino, ancora presenti in bilancio e mai svalutati. Quindi il CDA ha deciso di fare un'operazione di pulizia di bilancio, infatti la perdita di quest'anno è dovuta prettamente a poste diciamo vecchie e ripunite dal bilancio. E cosa avete fatto di quelle cose vecchie? Vabbè ma verranno, sono praticamente, non hanno nessun valore, erano in bilancio, erano in bilancio e quindi a un certo valore, dopodiché erano insussistenti come valore effettivo e quindi vengono svalutate contabilmente, il valore di mercato è ridicolo perché monitor vecchi di decine di anni, capiamo anche la tecnologia del tempo rispetto a quella adesso, non hanno praticamente nessun valore, ma ci sono tante cose così purtroppo che sono state svalutate e prossimo anno avremo il primo bilancio di gruppo, di gruppo, dopo tantissimi anni, in positivo, prossimo anno sarà positivo, con una unica società e quindi fondendo tutti, finalmente un'unica società, quindi non tre come adesso, ma un'unica società con un'unica diluzione e con un bilancio positivo. E quindi sì, è questo anche il nostro compito, quello di portare Bus Italia a Veneto, la società dei trasporti ha chiuso per la prima volta il bilancio quest'anno in attivo di 150.000 euro, consideriamo che la perdita dell'anno scorso era 2 milioni e mezzo, ereditata dalla gestione precedente quando era APS Holding, quindi vuol dire che anche nei trasporti, pur con le difficoltà che ci sono state, che sono state per il 90% adesso sistemate, pur con le difficoltà che ci sono, si può lavorare con società che vadano in pareggio, perché chi ci ascolta sa benissimo che se le società poi sono in perdite, chi pagano? Sono sempre i padovani e io invece ho fatto una scelta chiara di diminuzione delle tasse, abbiamo diminuito l'IRPEF, la Tasi, la Tari, l'Imu dello 0,5% sui capannoni industriali e anche su tutte le attività di tipo economico, quindi sugli uffici, sui magazzini, sulle attività commerciali, quindi la scelta è stata quella di tagliare le tasse e non di aumentarle, quindi i padovani non pagheranno un euro in più. Dalla vendita delle azioni ERA, che abbiamo fatto settimana scorsa, 8 milioni e mezzo di azioni a un prezzo buono, perché l'avevo gestito dall'Advisor, non da noi, che è stato scelto dal gruppo ERA, abbiamo ricavato 20 milioni di Euro, con questi bigliotti di 20 milioni di Euro non verranno mai utilizzate per spese correnti, ma per spese in conto capitale, quindi per spese che vanno in infrastrutture, dicevo prima 4 milioni e mezzo di esfatature, poi abbiamo fatto un calcolo, circa 4 milioni di Euro di verde, cioè potature di piante, sistemazione di cose che dopo tutto… Dopo anticipi le domande fra la gente, ci sono anche domande per quanto riguardano il verde, poi cerchiamo di essere esaustivi anche sul tema. Piste ciclabili, 6 milioni di Euro per le mura, di cui 2 milioni di Euro sono finanziamento della Cariparo, della Fondo per Tutto, Ferro perduto, opere pubbliche, il piazzale Boschetti un milione e mezzo, Morgagni, il progetto di tutta via Morgagni, anche là circa 300 mila Euro di progetto, quindi insomma tutta una serie di progetti, le tensostrutture per i quartieri, il plebiscito, il colbacchini, il 1.800.000 Euro per i colbacchini, progetto esecutivo, a settembre partono i lavori, insomma sarà un fiorire di cantieri, ma dopo la gente valuterà quello che viene fatto. Quello che viene fatto, e staremo a vedere, speriamo, io annodo tutto nel fazzoletto come Stice Notizie che fanno il nodo e sicuramente sarà un nodo… Ci vorranno molti fazzoletti, ci vorranno molti fazzoletti, ne abbiamo tantissimi noi. Un altro argomento importante, Massimo Vittonci, sono le caserme dismesse, la Prandina dopo il lavoro di un anno fatto dal sindaco e cui bisogna darne atto è stata liberata, c'è la caserma Romagnoli, cosa succederà su queste due caserme dello Stato o del Demanio? Andiamo a vedere il servizio e poi lo commenteremo in studio. Dare nuova vita alle caserme dismesse della città, ma anche a quelle non ancora del tutto libere, è un obiettivo dell'amministrazione, che da mesi sta lavorando per dare un futuro alla ex caserma Prandina, Romagnoli e Piave, dove realizzarvi rispettivamente un parcheggio a servizio del centro, aree di aggregazione e spazi universitari. A manifestare l'idea di offrire alla città la possibilità di riutilizzare gli spazi della caserma Piave di Via Moro era stato un anno fa il generale del Corpo d'Armata Bruno Stano, proposta accolta e discussa con l'Ateneopata Vino, tanto che il rettore, Rosario Rizzuto, il 5 luglio scorso si è recato a Roma presentando un progetto di ristrutturazione. A seguito di questo incontro il sottosegretario alla difesa, Gioacchino Alfano, ha convocato il sindaco per continuare la trattativa della cessione della caserma, destinata, secondo il progetto, ad accogliere alcune facoltà, tra cui Economia, il Conservatorio Pollini, l'archivio di Stato, oltre a una parte di residenziale e direzionale. Cogliendo l'occasione al volo, nell'incontro si è discusso anche della ex caserma Prandina, già di proprietà del Demanio e quindi sottoposta ad un diverso processo di acquisizione, area che sarà recuperata con la realizzazione di un grande parcheggio e che servirà anche alla valorizzazione delle mura storiche. Discorso a parte per le ex caserme Barzone di Prato della Valle e la Romagnoli di Chiesa Nuova, per le quali tra amministrazione e Ministero della Difesa è stato firmato in passato un accordo di valorizzazione. Ecco, nell'immagine, ma subito, tutte queste caserme sono praticamente in centro, perché la Romagnoli è vicina, centro a Prato della Valle, la caserma Piave, la Prandina, sono tutti in centro, ed è un peccato mortale avere uno spazio inutilizzato e in degrado, come abbiamo visto. Lasciarlo lì... Io mercoledì sono stato insieme con l'architetto Fabris a Roma, dal sottosegretario Gioacchino Alfano, che non è parente ovviamente del Ministro dell'Interno Alfano, per fortuna di da Young, e con lui abbiamo discusso di tutti questi temi. Lui ha chiamato il sindaco, ci conosciamo da parecchi anni, perché lui era capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia, io lo ero capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera per la Lega, quindi abbiamo fatto cinque anni assieme in Commissione, capite che insomma dopo anche i rapporti ovviamente umani e di collaborazione rimangono, quindi lui quando ha visto che interessava questo progetto mi ha subito chiamato. Intanto mi ha fatto piacere, perché il sottosegretario ha detto che a settembre faremo un convegno proprio qui a Padova, lo organizzeremo noi, ci sarà lui, ci sarà Regi che è il direttore del Demanio, ci sarà ovviamente il direttore del Demanio Veneto e anche altri, anche le forze militari, perché il modello Padova lo stanno un po' portando in giro un po' per tutta l'Italia, cioè Padova è stato l'unico comune che nell'ultimo anno e mezzo con la nostra amministrazione ha già fatto tre valorizzazioni importanti e è un dato assoluto che non esiste in altre zone d'Italia. La Romagnoli abbiamo fatto velocemente in Consiglio Comune la valorizzazione, diminuendo del 50% i volumi come c'era stato chiesto, in realtà il Ministero chiedeva il 100% delle volumetrie, noi abbiamo chiesto invece il 50%, le abbiamo ridotte il 50%, diciamo che a loro lo stesso hanno accettato questa nostra proposta. La cosa molto positiva è che è già stata ceduta l'Invimit, che è una società partecipata dal Ministero, quindi la valorizzazione c'è già stata, ho incontrato circa un mese fa il nuovo direttore dell'Invimit che ha dato una notizia eccezionale per Padova, io lo dico a chi abita a Chiesa nuova, cioè l'Invimit farà il progetto assieme al Comune di Padova, l'Invimit è una società partecipata dal Ministero che si occupa delle valorizzazioni di beni e quindi è stata passata dal Ministero della Difesa, è stata venduta all'Invimit che quindi l'ha acquisita, l'Invimit è una società che ha risorse proprie perché è un fondo, è un fondo immobiliare, quindi risorse proprie, è di tipo statale, ma la cosa positiva è che faranno il loro progetto, cioè non lo venderanno a privati che faranno il progetto, fanno loro il progetto assieme al Comune, quindi lo dico per chi parla spesso della Romagnoli o chi anche di qualche comitato mi viene a dire cosa succederà della Romagnoli così, il progetto lo farà il Comune insieme all'Invimit e quindi insieme alla partecipata del Ministero, quindi la parte pubblica, la piazza perché Chiesa Nuova ha bisogno di una piazza, la viabilità da spostare, l'ampliamento degli impianti sportivi, i servizi che chiede Chiesa Nuova ci saranno perché li studieremo insieme, quindi direi questa è una cosa positivissima perché poteva tranquillamente la Romagnoli rimanere là per altri dieci anni, poi arrivava un privato e chissà quando poi con il mercato che c'è adesso immobiliare estremamente in crisi, chissà quando poi, però facendo così avremo presto un progetto da presentare per la città. Poi abbiamo il tema della piave, il tema della piave è un tema delicatissimo perché attualmente al di là di quanto è stato detto non è ancora in disponibilità del Ministero e del Demanio, nel senso che quello che risulta il sottosegretario ed è per quello che è stato giù mercoledì, risulta ancora in disponibilità ai militari e quindi quello di cui si è parlato fino adesso non era del tutto corretto. Su mia richiesta il sottosegretario farà una domanda di dismissione militare. Quando verrà dismessa verrà aggiornato il protocollo d'intesa che sottoscrive il Comune, quello che abbiamo fatto per la Barzon, che abbiamo fatto per la Romagnoli e quello che abbiamo fatto per la Prandina. Verrà aggiunto e quindi verrà giù il sottosegretario per firmare una modifica del protocollo d'intesa, verrà aggiunta la caserma piave che interessa all'università ma anche non solo ma anche al conservatorio diciamo e là ci metteremo a discutere cosa fare. Il Ministero... Tempi perché avvenga la prima fase. Allora prima fase per l'inserimento nel 6 verso settembre dovremo trovarci per aggiornare questo protocollo d'intesa che è già quasi chiuso perché tutte le cose che c'erano nel protocollo dell'anno scorso sono già chiuse, direi quasi incredibile, insomma 3 su 3, ecco quindi aggiungeremo il quarto che è la piave. Poi c'è questo progetto l'università, però l'università dovrà passare attraverso il Comune perché i progetti di valorizzazione deve farli assolutamente il Comune. Bisogna capire la sopra tendenza che i vincoli mette sulla piave perché è giusto far capire che non è che il Comune può liberamente decidere ma ha sempre questa interlocutore importante che è la sopra tendenza dei beni artistici che quando c'è un chiostro come quello della caserma piave, chi la conosce sa benissimo che all'interno che chiostro meraviglioso che c'è, quello è un chiostro che non potrà essere modificato. Bisogna vedere gli altri volumi, i magazzini, quegli altri volumi se la sopra tendenza poi darà l'ok per un eventuale ampliamento, ristrutturazione. Comunque studieremo un piano di valorizzazione che vorrà dire una parte privata, una parte all'università, una parte come osservatorio. Questo sarà il progetto su cui lavoreremo da settembre in poi. La Romagnoli è già avanti, la Barzon è già avanti. Sulla Prandina, la Prandina è già in disponibilità del demanio, abbiamo chiesto di averne l'utilizzo e la proprietà. Stiamo aspettando la stima del demanio per capire quant'è il valore di perizia che verrà quindi determinato dall'ufficio tecnico e radiate quindi dall'Ute e su questo faremo poi la nostra offerta. Il Comune di Padova vuole acquistare assolutamente la Prandina. Io faccio i rompiscatole, i tempi anche qui, perché la gente poi dice tutto bello, però fra quanto vedremo tutte queste opere… Ma se pensate che abbiamo fatto le vendite, le valorizzazioni, il Comune ha anche incassato la valorizzazione e quindi il vantaggio economico che abbiamo investito in opere pubbliche. La Romagnoli presenteremo un piano intanto generico, sono cose che ci vogliono anni, però nonostante questo stiamo correndo alla velocità veramente della luce e quindi io penso che a settembre dovremo avere la risposta sulla disponibilità di utilizzo, perché se mi danno l'utilizzo io il parcheggio previsore lo faccio subito, soprattutto con APS ovviamente quindi magari un parcheggio dove sarà molto economico, quindi lo faccio subito, sistemo subito l'area, metteremo le sbarre, nel momento in cui avremo la disponibilità presenteremo il progetto, là comunque io penso che prima di un anno sarà difficile mettere un progetto, se c'è la disponibilità partiremo subito con un pareriggio provvisorio. Il parcheggio diciamo che prima di Natale potrebbe succedere che si possa parcheggiare presto che questo, potrebbe essere che il prossimo anno si potrebbe avere il parcheggio secondo me provvisorio, ci sono comunque lavori da fare, perché chi conosce l'area sa benissimo che è faticente, è un'area faticente. La domanda che faccio, Massimo Vittorci, è un uomo esperto politicamente come lo sei tu, ma la burocrazia è davvero un peso, un maccigno che fa prolungare? Allora è un maccigno, può essere anche un alibi per i politici, non è un alibi soprattutto per me che voglio sempre vedere le cose fatte, allora progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, dopo l'esecutivo puoi fare la gara, la gara ha dei tempi tecnici per farla e per bandirla, c'è l'assegnazione alla ditta che ha i tempi per partire con i lavori, voi capite che questo vuol dire due anni? Cioè per arrivare che la ditta comincia i lavori è minimo un anno e mezzo e quindi dopo gli lavori devono essere eseguiti, non è che un lavoro di un centro congressi diciamo prima, non è che un lavoro di 20 milioni di euro, 19 e mezzo quello che è, si fa in sei mesi, cioè una casa prefabbricata si fa in sei mesi, va bene, ma un centro congressi ci vogliono due anni, questa è la realtà, un parcheggio magari si può fare in sei mesi se devi abbattere e fare delle strutture immobili, ma un'opera pubblica fissa, ci vuole il tempo, l'importante è che partino i lavori. Certo, però la burocrazia fa sì che anche nei sei mesi o nel tempo breve ti prolunghi un tempo che… Pensando sempre che la soppertendenza a qualsiasi opera pubblica può bloccarla, quindi c'è anche il tema che può arrivare e questo è un potere che hanno incredibile, che su qualsiasi opera possono dire in qualsiasi momento non va bene. In questo passaggio può influire la politica, faccio un esempio, Massimo Bitonci della Lega, la soppertendenza del PD e dice, faccio un esempio, viceversa adesso nulla toglie, Massimo Bitonci dice questo, noi la bocciamo comunque. O c'è qualcuno ancora al di sopra che può decidere? No, io direi che la soppertendenza ha stabilito un ottimo rapporto. No, dico in generale Massimo Bitonci. Ma certo che dappertutto ci può essere l'influenza politica per cui andare contro a un'amministrazione perché magari di un colore diverso in qualsiasi funzionario, anche interno al comune, ne succedono anche adesso, magari di cose che qualcuno, qualche carta nel cassetto la tiene o qualche carta la manda fuori, anche se non è possibile farlo pur di ostacolare. Questo sta nelle cose, non dovrebbe succedere, però purtroppo succede. Devo dire che con la soppertendenza abbiamo instaurato un sistema e ringrazio la soppertendenza è capo e soprattutto chi ci segue, Chiesolagni, per le cose padovane. Lo ringrazio perché su qualsiasi cosa loro vengono, guardano le carte prima, ci dicono le cose da sistemare, capiamo subito se la cosa è impossibile o si può essere valutata, quindi è così che si fa. Le cose si mandano prima sulle mura di Padova, abbiamo mandato tutti quanti i progetti in modo che il soppertendente valuta prima effettivamente il progetto e i lavori da fare. Sì, non è anche appunto perché ha un colore politico diverso, blocchi. Ma loro hanno anche ragione, quando ho parlato con il soppertendente abbiamo avuto anche recentemente un incontro in cui mi ha discusso un po' tutti i temi padovani, giustamente lui dice se mi arriva un progetto venerdì sera e devo dare il parere lunedì mattina perché siamo l'ultimo giorno possibile per il parere, è logico del parere negativo perché mi girano anche le scatole, hanno anche ragione da un certo punto di vista, nel senso che anche noi abbiamo affinato il meccanismo per dire i progetti devono arrivare in tempo, le persone devono avere il tempo per guardarli, per valutarli e per dire che il progetto va bene, questo è quanto. Va bene, abbiamo sentito anche per quanto riguarda l'argomento delle casarme dismesse che ci sono molte iniziative per quanto riguarda il comune e in tempi brevi, soprattutto per quanto riguarda la parandina, potremmo già avere il primo accesso anche se provvisorio per un parcheggio per la gente che vuole andare a fare gli acquisti in centro. Siamo andati Massimo in città e siamo andati a chiedere alla gente ma com'è il vostro sindaco, avete delle domande da fare e ci sono delle curiosità, andiamo a sentire queste interviste di Dennis Mara e poi le commenteremo in studio. Se avessi una domanda da fare al sindaco Bitonci cosa chiederebbe? Guardi, siamo in una crisi spaventosa, noi clienti ci sono pochi, questa via è morta, non c'è né un bar né niente all'infuori da Piazza Garibaldi, ma noi sia io che i negozi ci lamentiamo perché non c'è nessun movimento. Di rendere questa città ancora più internazionale, aprirla al mondo. Di lasciarci passare con le biciclette la sera qui in centro perché per noi sarebbe un un gran vantaggio. A fare più attenzione alla mobilità sostenibile, quello che per il mio punto di vista. Cosa che non sta facendo. Gli chiederei di spendere meglio i soldi del comune. In particolare investirli su che cosa? Nella cultura, nel sociale e quando li investe nella cultura e nel sociale li ha già investiti bene. Mettere più alberi. Dove in particolare? Dappertutto perché, vabbè, io vivo in Australia però sono di Padova e quello che manca è il verde dappertutto, cioè mi rendo conto che non è una richiesta estremamente legata alla politica, però sicuramente alla vita migliore, al lifestyle. Quello di mettere a posto le strade, nel senso che ci sono tanti marciapiedi che sono dissestati, è stata fatta domanda diverse volte, però non si vedono, diciamo, miglioramenti. Di tenere un po' più pulite le periferie di Padova, che sono i marciapiedi che fanno veramente senso, le bacce che ci sono. La questione intanto della sicurezza, sicurezza specialmente nella periferia che leggiamo ogni momento, che fanno ruberie, percuotono l'anziani, medicina. Non avere paura, perché siamo in tanti al mondo, quindi di etnie diverse e quindi dare spazio un po' a tutti, certamente con gli stessi criteri con cui vengono controllati gli italiani o come i cittadini padovani, diciamo. Stresse ce n'è, perché ho incontrato tante, adesso, macchine di pulizia, anche a piedi, dunque, c'è, però, però, non so, cosa ci vorrebbe, macchietta magica, forse. Insomma, ce ne sono tanti, però mi sembra uno tosto bitonci, non ho mica paura a risolvere i problemi. Da il senso reale delle difficoltà di fare il sindaco di una città, perché tutti chiedono, nessuno dice, beh, bravo il sindaco, tutti devono chiedere qualcosa, della strada, gli alberi, anche le più, diciamo, piccolezze, però tutti chiedono al sindaco un qualcosa. E il sindaco deve cercare di soddisfare tutti o la maggior parte del sindaco. Ma in realtà, cioè, poi, io riscontro… Però l'ultimo ha detto una cosa, eh, il sindaco è tosto, eh. Il, il, in realtà, il, cioè, quando io faccio gli incontri come, come è successo settimana scorsa a Forcellini, quindi quando io faccio gli incontri nei quartieri, vengono 200 persone, sono tante, 200 persone, sono tante. Io mi appunto tutte le problematiche, poi noi rispondiamo uno a uno e cerchiamo anche di fare il piano delle manutenzioni, delle cose da fare, perché alla fine sono tutti problemi, avete capito, legati più alle manutenzioni ordinarie, che la gente non chiede, magari di grandi opere infrastrutturali, polizia, sicurezza, il verde, ecco. Dopo, dopo c'è un, c'è un tema, c'è un tema che è tutto, che è tutto cittadino, che è quello legato agli alberi, dove, ma io penso che Padova sia una città verde, cioè è una città verde, una città con, con parchi, con giardini, con zone completamente alberate, con corsi d'acqua meravigliosi, su cui stiamo investendo parecchio e non ci si può arrabbiare se tagliamo 25 piante che poi vengono sostituite. Cioè c'è un po' una credine, forse ideologica, su questa cosa, perché i dati dicono che noi piantiamo più di quello che viene sostituito. in realtà il tema degli alberi è un tema delicato perché alcune essenze vanno, dopo un tot di anni, vanno sostituite, vanno tagliate perché diventano pericolose e quindi noi per quello abbiamo istituito questo registro in cui vengono annotate anche le piante, dopo un tot di anni, come si fa all'estero, in tutti i paesi civili, che dopo un tot di anni vengono tolte, vengono rimpiantate, dopo quando raggiungono una certa altezza, una certa dimensione. Tranne i secolari, insomma. Questo, ma tranne gli alberi secolari, che quelli ovviamente non vanno. Tranne i treppini dove c'è l'orto botanico che li hanno tagliati proprio perché hanno ammalato, cioè magari era, diciamo, una scultura quasi della città. Sì, però anche là, quella non è una cosa che fa il comune, cioè nel senso che quello ovviamente è stato fatto dall'ente religioso, non da noi. Non c'è del comune. Quindi tante volte vengono anche debitate delle colpe, delle cose. Dopo, se viene ristrutturata una via completa e ci sono magari degli alberi che impediscono la sistemazione e vengono tagliati e rimpiantati con delle essenze magari locali un po' più piccole, non capisco anche il fatto che ci sia questo accredine nei confronti dell'amministrazione quando si fanno operazioni così, peraltro con l'ok o con perizie fatte direttamente sugli alberi. Quindi le potature vanno fatte. Se penso a via Morgagni, adesso abbiamo questo progetto definitivo e partiranno il prossimo anno i lavori di sistemazione completa di via Morgagni, cioè su via Morgagni ormai le piante si toccano una con l'altra, cioè va completamente potate. Potare vuol dire ovviamente tagliare in modo, e quindi devono essere professionisti e non gente magari che taglia in maniera che magari fa morire la pianta, però le potature vanno fatte perché poi sono pericolose. Io all'incontro che ho fatto settimana scorsa, tanti mi chiedevano di potare le vie, ho preso nota, lo passo al verde e nei 300 mila Euro che abbiamo staziato l'altro giorno ci sono tutto un piano di potature per settembre. Ecco marciapiedi? Marciapiedi abbiamo in porti, abbiamo 4 milioni e mezzo tra marciapiedi e asfaltature e quindi vengono fatte. Mi ha fatto un calcolo l'anno scorso, quando l'assessore era ancora Boron, che calcolavamo che c'erano 25 milioni di Euro di marciapiedi da rifare a Padova, capite che è tutto il bilancio di un'amministrazione, 25 milioni di Euro, dopo io capisco tutto, ma non è che in due anni puoi fare tutte le opere che non sono state fatte in vent'anni, c'è un po' alla volta, stiamo tentando di… Cultura, Massimo, il gap? La cultura? La cultura, io riporto i dati eccezionali perché dopo bisognerebbe leggere i giornali o alcuni giornali anche un po' in maniera critica sui dati che evidenziano e che non evidenziano, cerchiamo di guardarli un po' tutti e di guardare anche la TV quando parla il sindaco e gli assessori che dicono le cose e che dopo c'è riscontro, se noi abbiamo avuto negli ultimi due anni un incremento del turismo molto importante a Padova, è dovuto al turismo, è dovuto anche alla cultura, ci sono state fatte tutta una serie di manifestazioni, adesso anche questa manifestazione di Ottobre Babele con Sgarbi, ne parleremo probabilmente dopo, ha avuto una risonanza tra i caratteri di Sgarbi e il fatto che qualche volta abisticciamo apposta, diciamolo francamente, perché è un po' l'anima del commercio questa cosa qua, è quello di magari dire una cosa, poi l'altra, diventa un tema nazionale, ah cosa ha detto Sgarbi e dopo Betonci l'ha smentito e dopo magari ce l'avamo sentito… La nostra pubblicità è un sistema anche per pubblicizzare un evento che non conosceva nessuno perché la fiera Piccopallo non la conosceva nessuno, mentre adesso Babele ha avuto un riscontro nazionale… Ma oltre alla cultura di Babele c'è anche il problema che fate una mostra di dinosauri la più importante del mondo… Siamo una mostra di dinosauri che ha già avuto un numero di iscrizioni da parte di scuole, come dicevo prima, che è il doppio rispetto a quello della stessa mostra simile, completamente diversa, simile nel tema ma non certamente perché i dinosauri ce l'abbiamo solamente noi e non Milano, a Milano c'è una mostra sull'evoluzione, sull'homo sapiens, ma noi abbiamo avuto il doppio di iscrizione di scuole, quindi ci prepariamo per ottobre per un'invasione… Nella risposta della signora, i soldi per la cultura l'amministrazione li spende e investe nella cultura e aggiungo anche perché ha detto cultura è sociale, ecco. E per quanto riguarda i sociali invece… I sociali, noi continuiamo a fare tutta una serie… Per esempio, il fatto di aver voluto rendere gratuita la mensa per tutti quanti i bambini da 0 a 4 mila euro di reddito ISEE che coinvolge circa un 300 famiglie, va bene, il fatto di voler dare una contribuzione diretta alle famiglie, cioè tutte quante cose che prima non c'erano, bisogna calcolare anche le cose in più che vengono fatte. Dopo, se noi abbiamo effettuato il taglio di alcune spese che abbiamo ritenuto inutili e che nulla hanno a che fare con il sociale, cioè i contributi a certe associazioni che non erogano servizio a portatori di kendica, panziani e così, sono contributi a fondo perduto a quelli, non sono contributi e quelli li abbiamo eliminati. Se noi tagliamo l'accompagnamento dei bambini rom a scuola che costava mezzo milione di euro, non è che quello è un taglio, perché tanto non andavano a scuola neanche lo stesso, cioè abbiamo tagliato delle cose che abbiamo scoperto inutili, completamente inutili. Ieri e la settimana scorsa sono venute due signore a ringraziarmi perché sono andate in vacanza per la prima volta in loro vita grazie a questo che facciamo per il sociale e quindi mandiamo ovviamente al mare, in montagna, gli anziani che non possono così. Non erano mai andate in vacanza, andate in vacanza col comune, erano contentissime, con la somma anche limitatissima. Bisogna capire anche le cose in più e nuove, innovative che abbiamo fatto e che si facevano prima. Cerco di accelerare, ti interrompo, non è bello, però di loro abbiamo tante cose a dire. Prima di andare in pubblicità però, le biciclette adesso possono andare in centro per i due ragazzi che c'erano le biciclette. Ma è già da dieci giorni, quindi non so quando è stata fatta l'intervista. No, è stata fatta ieri. È già dieci giorni che passano le biciclette, c'è sempre l'eco di… L'eco perché è recente, non è fatta un mese fa, è stata fatta ieri, quindi questi ragazzi non sono a conoscenza che in bicicletta possiamo andare. È già quasi 15 giorni che si può tranquillamente girare in bicicletta, la sera per il giorno è una cosa già fatta. Anche se le biciclette, io vorrei davvero che un giorno, Gino se l'ho già detto perché poi in vecchiato magari uno gli fa le stesse domande, corrono in bicicletta e i ciclisti sono davvero… Ho molte lamentelle, l'ho detto nella scorsa puntata che ho io a ricevimento, c'è chi mi viene a parlare pro delle biciclette, c'è chi mi viene a parlare contro. Io sono pro le biciclette ma ho un po' di educazione per quelli che vanno. Io uso sempre la bicicletta, quello è il tema, però è anche vero che io vedo dei ciclisti molto indisciplinati in certe zone della città, vedo dei ciclisti molto che passano magari le strisce pedonali a velocità assurda. Non l'abbiamo già parlato, però lo ricorderemo ogni puntata in modo che se c'è qualche ciclista… Se c'è una velocità che se investe in un anziano lo ammazzano, bisogna anche capire che non è che dopo una la bicicletta… Il pedone alla precedenza, spieghiamoglielo un attimo che il pedone, allora la scala è il pedone a precedenza sulla bicicletta, la bicicletta a precedenza sulla macchina, rispettiamo le precedenze… Però c'è la bicicletta, ripeto non vorrei essere… Perché la bicicletta deve asfaltare la gente che passa la strada. È vero, ne abbiamo già parlato e ne parleremo ancora in tutte le televisioni. Le biciclette attraverso le strisce pedonali hanno la precedenza sulle macchine, ma santo di Dio, senza dignità proprio… Io ho raccontato l'altra volta, lo ripeto, ho visto un incidente giù dal cavalcavia Camerini, dove una macchina ha investito una signora davanti a me, per carità, quella in macchina l'ha investita, andava piano, ha frenato, ma la signora ha attraversato senza guardare in bicicletta, arrivava giù dal cavalcavia in velocità, ha attraversato se l'ha trovata davanti, responsabilità, per carità, sempre della macchina. Della macchina… Però, mamma mia, passare in velocità, zanare a guardare… No, a me basta che diano la multa a quelli che sono… Dopo ci siamo fermati, sono fermato anch'io, ho telefonato, mi sono accertato che la signora non stesse male, per carità, però un po' di disciplina… L'ultima, da via Roma, per andare sull'Estone, c'è quel passaggio che oramai è intasato di gente, perché via Roma c'è tantissima gente che arriva dal Prato della Valle, che visita la città, molto bello. Allora, bisogna scendere… Non c'è però una striscia pedonale di attraversamento lì, ci sono invece che dei ciotoli, c'è un po' più di quadrati di pietre, però lì non si può fare una striscia pedonale, è una domanda la mia, perché tanti dicono arriviamo lì… Ma non mi ricordo se c'è o no… No, non c'è nulla, dal… un passaggio… Sì, forse l'abbiamo visto prima… Da via Roma nel passaggio… Sì, sì, certo, certo, non mi ricordo se c'è o no nella striscia… No, non c'è nessun segnale… Passo sempre perché ci posso… Nessun segnale per terra, da via Roma per andare sull'Estone, per andare a Pedrocchi praticamente… Diciamo che si potrebbero mettere del porfido di un altro colore… O qualcosa di colorato, perché uno non… Ma abbiamo messo, mi parli degli occhi di gatto, non vorrei sbagliarmi, però abbiamo messo recentemente degli occhi di gatto per segnalare il passaggio… La domanda, l'ultima invece in tutte le interviste… Gli occhi di gatto sono quelli… Che la peggiorno, però di giorno non si vedono, quantomeno di giorno non si vedono. L'ultima prima è la pubblicità, una cosa che ho notato nell'intervista fra la gente, nessuno ha detto, ci sono delle buche per le strade. In tutte le città ci sono le buche, quindi nessuno l'ha detto, questo è un lato positivo, nessuno ha la mentella per quanto riguarda le buche. Ci sono sicuramente le buche, stiamo investendo molto nelle sistemazioni, nelle strade. Però nessuno l'ha detto Massimo Vitonci, quindi è un lato positivo, prendiamolo così. Andiamo a pubblicità, rientro parliamo di sgarbi e dei dossi, a tra poco rimanete con noi.